eccoci qui infatti siamo prontissimi e diamo il benvenuto ai nostri ospiti benvenuti a questo incontro di poesia così particolare dal titolo oltre infinito che è già evocativo con me Vincenzo Lauria uno dei due autori della silloge che andremo a presentare in quanto a quattro mani con Liliana Ugolini ha composto questo direi quasi trittico prima di entrare nello specifico del nostro incontro mi piacerebbe darvi qualche informazione sul perché la vita felice ha accolto con entusiasmo questa proposta editoriale che è molto originale e particolare intanto che tendevamo di andare in linea con Vincenzo ci siamo già raccontati un po' di cose circa quelle che possono essere le evoluzioni stilistiche e anche concettuali della poesia tanto per non rimanere ancorati al passato e considerando che questo progetto poetico coinvolge proprio delle degli aspetti performativi della poesia riconducibili a un 2.0 ecco che siamo proprio nella contemporaneità ma cominciamo a vedere chi sono i nostri autori innanzitutto buonasera Vincenzo Lauria buonasera buonasera a tutti infatti allora io vorrei cominciare a parlare di chi è Vincenzo Lauria che ho qui chiaramente i miei fogli visto che stiamo parlando di un 2.0 ricorro anche inizia nel 2001 la condivisione del suo percorso in Stanze Volute gruppo di undici poeti selezionati da Domenico De Martino dal 2010 partecipa con Liliano Ugolini a progetti multimediali oltre infinito ha una sua raccolta poetica la prima dal titolo teatro azioni con punto a capo editrice e ha ricevuto importanti riconoscimenti oltre ad aver partecipato a oltre 40 reading poetici detto tutto parzialmente Vincenzo va benissimo va benissimo così per quanto riguarda Liliano Ugolini che sarà nostra ospite in video non in diretta ma è come se fosse qui con noi beh qui e sarebbe molto più lunga la storia considerando che la sua attività poetica nel tempo a ritroso vede addirittura 19 libri di poesia 5 in prosa e 4 di teatro ha curato all'interno dell'associazione pianeta poesia per 16 anni le manifestazioni dedicate alla poesia performativa e multimediale promuovendo la conoscenza di questa particolare modalità di linguaggio poetico ha realizzato il teatro da camera di poesia e opere in versi e musica lavorando a fianco di attori musicisti e performer detto questo è una piccola introduzione degli autori perché credo che comunque anche questo faccia parte di poter fruire maggiormente di quella che è la proposta il libro vincenzo porta una nota introduttiva interessante di Laura Caccia Laura Caccia che ha sicuramente vissuto anche parte delle come si dice delle delle sezioni interne in cui è diviso questo nostro volume che si riferisce a tre momenti particolari mi aiuti tu vincenzo a definirli questi tre momenti particolari allora sono tre sezioni che corrispondono in realtà a tre progetti oltre infinito 1 oltre infinito 2.0 e oltre oltre infinito che gioca proprio sul tre come terzo numero all'interno della parola oltre a ogni progetto con Liliana abbiamo lavorato dal punto di vista intermediale e quindi abbiamo cercato di fondere cercando una sinestesia massima possibile per quelli che sono stati i nostri mezzi creando nella fattispecie dei video un video per ognuno dei progetti quindi siamo partiti ovviamente dai testi poetici ma dai testi a partire dai testi poetici abbiamo creato e cucito delle immagini selezionando immagini di artisti oppure chiedendo la collaborazione come nel caso di Giovanna Ugolini che ha collaborato al progetto 2.0 e 3 e quindi abbiamo realizzato questi tre progetti intermediali con questi video che raccolgono poesia e in alcuni casi musiche e mi viene in mente per esempio Tommaso Pedani che ha prestato delle composizioni originali per l'ultimo dei tre video e abbiamo cercato in questa maniera di dar corpo alla poesia e al nostro manifesto poetico che è stato il punto di partenza di questi tre progetti e allora per quanto riguarda la nota introduttiva di Laura Caccia io provo a estrapolare un breve passo tanto per dare ancora un contesto nel quale poi ci muoveremo all'interno del volume Laura Caccia scrive una sfida per il pensiero che si addentra negli oltre territori della ricerca sulle infinità possibili in astrofisica come in cibernetica è una sfida per il linguaggio che si sincronizza con il mondo esterno diventando oggetto soggetto in espansione costante attraverso la partitura messa in atto dalla parola poetica l'arte e la parola poetica nella loro tensione al vero e al senso delle cose oltre la realtà visibile costituiscono concreta possibilità di sottrarsi al furto tecnologico dell'identità al filo dell'automazione e allora entriamo veramente in un mondo che oggi è forse più in confidenza con quella che è la nostra quotidianità in realtà il periodo di lockdown ci ha insegnato a lavorare con questi strumenti innovativi di comunicazione mentre prima forse eravamo più ancorati ad una situazione eh pregressa dove magari il telefono era già un un metodo innovativo oggi dobbiamo veramente impegnarci ma trovare anche sicuramente un motivo utile di utilizzo di questi strumenti cercando però di non farci fregare è così vincenzo alla fine cioè fregare nel senso che non siano loro a diventare dei nostri padroni sotto questo aspetto eh sì molto spesso può succedere basta guardare al fenomeno della nomofobia che è questa nuova fobia che viene catalogata come l'incapacità di rendersi indipendenti dall'essere connessi eh costantemente e quindi l'incapacità di muoversi senza un uno smartphone eh l'incapacità di essere collegati ai social quindi questi sono gli estremi ai quali possiamo giungere partendo però comunque da mezzi che agevolano la nostra vita certo in generale di cose che possono migliorare la nostra vita la differenza è poi nel limite fra l'uso e l'abuso come sempre in questi come sempre certamente in tutte le cose meno che in amore l'abuso in amore ma in abuso nel senso che lo si utilizza in maniera eh ampia non male non un amore malato ecco quello forse è un abuso consentito eh Vincenzo la passione la passione esatto allora io vorrei a questo punto sperando di riuscirci mandare la testimonianza di eh Liliana perché abbiamo detto che è qui con noi io ci provo ragazzi siete tanti e vi saluto innanzitutto vedo tanti nomi noti che ci stanno seguendo ma poi saprò salutarli singolarmente nelle risposte che andremo a dare a intervista terminata mentre attenderò da voi se volete qualche intervento specifico su quello che andremo a ehm raccontare e ora la nostra Liliana forse eccola qui allora intanto voglio ringraziare gli amici del di questa diretta Facebook eh quelli che mi stanno ascoltando e sono serena e felice di esserci e e ora diamo inizio a questa piccola in breve intervista allora Liliana raccontaci cosa rappresenta per te questo ventesimo libro di poesia oltre infinito beh è una somma diciamo di del modo di fare poesia in cui abbiamo voluto confermare Vincenzo Lauria e Dio un nostro credere no di non fare poesia in una maniera diversa diversa cioè per noi è questo il modo e e quindi è venuto fuori diciamo questo libro oltre infinito eh dove appunto c'è anche un manifesto poeta da dove nasce l'idea di un manifesto poetico Liliana appunto nasce da questa necessità di confermare la necessità di credere in un certo tipo di poesia e alla quale ci siamo sempre attenuti Vincenzo Lauria e Dio perché noi crediamo nel fare poesia in diverse in modi diversi non solo modi diversi ma parlando anche di non cose quotidiane ma diciamo di scienza informatica oltre infinito è un progetto multimediale cosa ha rappresentato per te la dimensione multimediale alla quale ti sei della quale ti sei occupata per oltre vent'anni sì per me è stato l'essenziale per un modo di fare poesia abbinando teatro e poesia perché la multimedialità mi dava modo di di presentarmi come autore di teatro nello stesso tempo con testi poetici erano piccole pièce diciamo teatrali insomma quindi questo mi è stato molto congeniale e l'ho molto adottato durante tutto il periodo è stato un modo di continuare anche l'esperienza con Pianeta Poesia sì sì per tanti anni ho presentato diciamo molti artisti che facevano e sentivano questa esigenza quindi li ho presentati molto volentieri trovandomi in un contesto molto a me congeniale e l'ambientazione dove generalmente venivano presentate questi autori di poesia multimediale erano le giubbe rosse vero e molto spesso le giubbe rosse e anche ci hanno stati in tantissimi luoghi a Firenze credo proprio da averlo visitato in tutti i modi possibili immaginabili perché l'abbiamo veramente presentato nei modi più disparati anche perché avevano bisogno di piccoli spazi e non c'era bisogno appunto di grandi spazi per dire appunto poeticamente quello che avevamo ecco cosa ti auguri per questo libro e cosa auguri a questo libro? sì mi auguro che venga prima di tutto compreso e che possa essere diciamo percorso anche a ritroso in maniera da poter capire tutto il lavoro che ho fatto durante questi venti anni di presentazioni che valore aggiunto ti ha dato la scrittura a quattro mani? sì sì questa è una cosa importantissima fa parte della multimedialità perché naturalmente non si può lavorare da soli e quindi la multimedialità è fatta proprio di rapporti e il rapporto in questo caso è dato da diciamo la collaborazione nel mettere insieme diciamo vari vari testi nei quali ci troviamo poi in consonanza grazie Liliana grazie Liliana lo dico anch'io con tanta stima e riconoscenza per un artista una donna che con grande coraggio io dico appunto risaliamo a vent'anni fa con l'inizio delle sue performance e della sua generosa dedizione alla poesia propria ed altrui quindi un esempio una tenerezza grandissima e un saluto veramente ossequioso e con stima per Liliana che tu Vincenzo dovrai portarle di persona visto che sei lì a Firenze insieme a lei mentre noi siamo distanti a questo punto eh lo farai sicuramente sicuramente e molto volentieri sicuramente ascolterà con grande gioia ecco e sappia che è veramente a tutta la nostra l'orgoglio di di sapere che comunque ha messo in campo con una tenacia direi da da leonessa un qualcosa che poteva essere all'inizio sicuramente non compreso e che forse adesso comincia ad avere una possibilità di acquisizione e di ascolto più partecipativa rispetto che non all'inizio allora nel frattempo sono arrivati un sacco di persone che ci salutano e quindi noi diamo un saluto eh globale attendendo magari appunto le loro interazioni ma cominciamo ad andare nel vivo del nostro eh del nostro volume innanzitutto partendo da una copertina che adesso sono bravissima e condivido aspetta un attimo aspetta che lo condivido perché ce l'ho ce l'ho la copertina eccola qua è carinissima di chi è questa copertina chi è che l'ha disegnata la fotografia è una fotografia di Francesco Paviglianiti eh che mi ha gentilmente donato proprio donato eh per questa opera eh sinceramente quando ho visto questa foto mi l'ho ricollegata subito ad oltre infinito e mi piaceva che ci fu la presenza di questi due pontili questi due podromi che in qualche maniera eh forse per me rappresentano me e Liliana che ci protendiamo verso questo orizzonte e questo oltre infinito certo e io invece ti chiedo ma potrebbe essere eh un titolo palindrome essere letto anche come infinito oltre guarda mh ti posso dire la domanda che mi fanno più spesso l'affermazione fanno più spesso oltre l'infinito e questa è una in realtà un è forbiante perché oltre in fi oltre l'infinito non contrasta con il nostro messaggio non vogliamo dire che noi vogliamo andare oltre l'infinito ma vogliamo andare eh infinite volte oltre innanzitutto oltre noi stessi e il nostro passato eh e soprattutto oltre noi stessi rotando l'osservazione dal sé a un sé globale sincronizzandoci con quello che accade nel mondo esterno superando la nostra quotidianità minima e cercando di dare alla poesia una materia alla materia poetica una sostanza scientifica e tecnologica e parlando di bionica di informatica che sono cose che ci possono apparire lontane ma in realtà fanno parte della nostra vita quotidiana se pensiamo a quanti di noi hanno nel loro corpo delle protesi eh per motivi di salute a quanti hanno un bypass una valvola ehm cardiaca e queste cose sono degli innesti meccanici che il nostro corpo accoglie eh e sono ausili eh che però dobbiamo prestare attenzione a non far diventare eh qualcosa che poi ci possiede in in qualche maniera mi riferisco non tanto a questi sostegni eh fisici quanto a altre cose come i social o gli smartphone e che possono creare in alcuni casi dipendenza si faceva prima un discorso di differenza tra uso e abuso certo ma in realtà appunto specialmente nei ragazzi e nei più giovani si verificano queste dipendenze probabilmente perché non hanno ancora una struttura così solida e formata dal capire quale sia il punto di mezzo a cui poter giungere e facilmente si fanno il ritire dico io da questa convinzione che il mondo sia questo che in realtà è un virtuale e molto spesso falsato rispetto a quello che eh il la il contatto reale e fisico con l'altro ci possono condurre quindi una maggior attenzione specialmente in quel mondo ma tanto ne sapranno i diversi insegnanti che vedo qui collegati con noi che hanno dovuto vivere gioire e patire ultimamente di una forma di vita in dad che ha sconvolto io credo le esistenze di insegnanti di ragazzi di familiari e di tutto l'indotto intorno a quella che era che è il mondo della scuola bene proseguiamo con noi allora dalla sezione uno eh Vincenzo vuoi già eh anzi direi che mando ancora proprio dal dalla sezione oltre infinito uno manderei la lettura di eh Liliana per la realtà del virtuale vado subito vado subito che non è vero eh figuriamoci se non fosse così ragazzi lo sapete che sono un po' un come si può dire la realtà del virtuale è qui bene me la fermo la riprendo e dico a zoom per favore mi dai la realtà del virtuale vediamo se è vero la realtà del virtuale la realtà del virtuale la realtà del virtuale ora l'immagine fa sparire le zolle e i cervelli danzano già soli nella ridda da fuori che poi diventa dentro un videocasco please un iphone un hair mountain screen per non vedere il muro delle pietre di qui in output si parte io sto nelle geometriche alla distanza degli occhi non più miei decostruisco la vista che m'automa l'odore di terra porta un verme grasso al succo di illusione di un sistema grazie a Liliana e questa è la sua proposta di lettura di un testo dalla sezione oltre infinito uno che risale come ehm diciamo operazione performativa che periodo vincenzo risale allora nel 2010 è stato creato questa prima parte del progetto e nel 2011 eh al febbraio del 2011 risale la proiezione che abbiamo visto che la presentazione del progetto è stata effettuata alla casa di dante al circolo degli artisti casa di dante di firenze e in quell'occasione come si può intravedere dalla lettura di Liliana dal vivo dietro scorrevano delle immagini eh del primo video che in realtà un blob video abbiamo realizzato prendendo delle immagini eh d'arte riconosciute e stralci di video che invece abbiamo trovato su internet abbiamo tessuto eh su stralci di nostri testi un video percorso percorso sì che un racconto di cinque minuti eh che sintetizzava eh i testi del della raccolta eh supportandoli con delle immagini e delle sonorità. E allora invece dal vivo perché sei qui a te chiedo un oltre umano sempre dalla sezione oltre infinito uno. Barbaramente fugge senza lasciti la nostra storia. Sei passi per i sette mondi uguale a te stesso numero primo. Indivisibile invisibile separatore di cifre errore operazione comune denominatore più infinito tendenza al limite binario intersezione insieme vuoto ennesimo millesimo elevato a a n alfa beta dumano oltre. Grazie Vincenzo e ancora sempre dalla stessa eh sezione punto zero. Qui cambiamo completamente registro mentre la prima poesia si riferiva al nostro comunque essere ennesimi e numeri primi eh e in qualche maniera anche si riferiva all'umanità che diventa sempre più analfa analfabeta nel proseguire eh e nell'individuare una prosecuzione proprio dell'umanità. In questo testo invece eh prevale l'ironia che andrò a leggere. Prevale l'ironia è una sorta di di ribellione contro l'informa l'informatica che ci in qualche maniera ci può opprimere anche in tutte le sue sfaccettature. Ti ascoltiamo. Punto zero. La versione punto zero è superata. Seguirà l'installazione dell'upgrade previo download del file compresso per occupare meno spazio. Si potrebbe zippare la versione al nuovo esperendo un meta zapping o chiudersi dentro a una zip nel tentativo di disperdere le proprietà. Perfettamente inutile. Il satellite ha in mappa il DNA. Evasione sovversiva. Con la presente intendo inoltrare autodenuncia per abusiva costruzione di una multiproprietà identitaria ospitata in una volumetria in perenne espansione. Contestualmente mi dichiaro geneticamente mutante al fine di raggiungere l'identificazione univoca. Incordialità. multimediali. Grazie. Il senso dell'ironia è perfettamente percepibile e in realtà non ci hai flagellato con termini inconsueti perché bene o male li conosciamo quasi tutti per cui fanno parte della nostra quotidiana. Esatto. Della nostra vita quotidiana. Però ci fanno venire la voglia di creare una multiproprietà. In espansione. In espansione. Esatto. In espansione. E allora ancora sempre da questa sezione un'altra testimonianza di lettura di ehm di Liliana con lo stilicidio. Lo stilicidio. Dove si muta l'immutata buce Tosignolo che nasce partellante nel bambino e ancora batte ornata Tosignolo oltre le primavere? Dove si muta l'immutabile arrivo nonostante? Scorsi di nodi coscorre nell'identico moto la bellezza e spazia seducendo i grembici ammaturi d'offerta. I negri alla salita avvenuppata a speranza non curante. È della natura la disuguaglianza e nessuno saprà del balbettio la sua incapacità. Un bandolo scientifico si sa ma non lo stilicidio. l'altro è il mio fuori e dentro di noi due due filastrocche tonde in uno volo. La luce è dentro al foro dell'occhio quasi cieco per un tentà convorso della foda la chiusura del cerchio sempre aperta. Grazie a Liliana. Abbiamo visto scorrere dietro infatti delle immagini anche inquietanti nella loro è velocità di cambiamento e di sovrapposizione quindi ha reso ancora più ehm come possiamo dire più sospansa su questa lettura in un ambiente che può anche dare qualche timore. Era questo il desiderio di questo stilicidio? Mi sono confrontato con Liliana proprio in questi giorni su questo testo che è rimasto anche un po' ermetico ehm anche a me ehm mi ha detto che però l'intento del testo era quello di di dire che la matrice della voce dell'usignolo e la matrice del bambino in realtà sono identiche ehm e che se scientificamente tutto è spiegabile lo è meno dal punto di vista umano ehm questo è il filo conduttore per poi nella seconda parte invece mhm Liliana mi ha detto che comunque eh c'era un riferimento al nostro lavoro insieme e a questo eh essere ognuno dice l'altro e il mio fuori e dentro di noi due due filastrocche tonde in oro boro quindi un qualcosa per cui ognuno è il il dentro e il fuori dell'altro ehm e c'è una sorta di comunione comunque esatto ehm questa comunione che si crea come diceva Liliana nella sua intervista ehm nei rapporti ehm che riguardano la scrittura a quattro mani o comunque le collaborazioni multimediali perché Liliana è stata un un'antesignana in questo senso è una persona molto disponibile e aperta a collaborare con gli altri e a capire che il lavoro sotto lo stimolo della collaborazione si apre e rende molto ed è arricchente per chiunque vi partecipi e qui andiamo sul certo sul tema anche della diversità no intesa come come ricchezza non certamente come motivo di estromissione di uno rispetto all'altro eh la cosa bella del lavorare con Liliana è proprio questo che non c'è un prevalere né dell'uno sull'altro ma un collaborare e la collaborazione poi diventa rapporto umano ehm che si consolida nel tempo come è avvenuto con la nostra amicizia questo mi sembrerebbe un bellissimo augurio per tutta la comunità poetica che non vuol dire arrivare vogliamoci bene casa cuore eccetera necessariamente però un accoglimento delle diverse appunto particolarità di ognuno perché in fondo anche l'esprimere lo scrivere poesia va a denotare un qualcosa di singolarmente valido ma che ha una valenza universale nel momento in cui viene condiviso e per essere condiviso ci deve essere qualcuno che accoglie e allora non chiudiamoci dietro a dei muri nei quali possiamo mettere solamente dei soldatini epigoni a noi stessi ma appunto facciamo breccia apriamo così come ha fatto la vita felice scusate ma io ne sono orgogliosa nell'accogliere questo lavoro perché è qualcosa di diverso è qualcosa che fa riflettere e che non nasce per pura ehm diciamo eh volontà di fare qualcosa di diverso perché ne ha sentito la necessità perché l'avete vissuta e ancora la portate avanti e quindi questo vi fa sicuramente onore e allora oltre a questa evidenza di eh confronto necessario e di attenzione a quelle che sono le variazioni eh sociali culturali economiche di sviluppo comunque sia del linguaggio che dell'essere nel tempo andiamo alla sezione oltre infinito 2.0 che sempre mi fa piacere dire appartiene a quale periodo? Allora questo è relativo al periodo duemiladodici e duemilatredici quindi successivamente alla prima presentazione di oltre infinito 1.0 eh praticamente abbiamo ehm presentato lavorato ai testi abbiamo anche qui costruito un video eh partendo però anziché ehm come era successo nel primo da un materiale su internet o riconoscibile da materiale originale eh in particolare abbiamo utilizzato dei collage e dei disegni di di Giovanna Golini la sorella di ehm Liliano Golini ehm che è un artista a 360 gradi perché ha lavorato a collage disegni, sculture, riesce tutto a a fare tutto con estrema eh leggiadria e con eh estremo contenuto ecco ehm abbiamo realizzato questo video eh e con una parte in cui veniva ripresa la stessa Giovanna Golini ehm durante la realizzazione di un'opera che abbiamo filmato ehm della quale abbiamo filmato proprio la realizzazione ehm e poi abbiamo messo in collegamento l'opera realizzata con eh quello che era il divenire certo quindi ancora una forma di creatività in itinere direi che quindi durante la presentazione del del video sempre alla casa di Dante abbiamo realizzato una piccola performance io e Giovanna Golini eh su un testo che era che è nella sezione due che è Habitat che praticamente fa un una sorta di ehm percorso all'interno dei nomi dei musei ehm in cui eh in questa performance Giovanna idealmente eh con un pennello dipingeva sul mio viso eh che eh io recitavo parte di questo testo. Direi che in quanto a creatività non non vi mancano le istanze appunto eh per per sorprenderci e per volevo dire che una cosa particolare del libro è che le sezioni iniziano proprio con delle foto che riguardano le performance oppure stralci di video come possiamo mostrare. Bravo fallo tu perché io non ho più trovato il libro invece qui in casa eh questo smart working è andato a ruba è andato a ruba non ce ne sono più non è vero non è vero carissimi nostri ospiti eh il libro c'è e come ed è un piccolo gioiellino da tenere vicino vicino a voi e su questa sezione oltre infinito due andiamo a inserirci con una eh lettura chip art che poi ci porterà a raccontare qualcosa sempre su eh un canone non sperimentale ma direi attuale contemporaneo. Prego Vincenzo. Sì. Chip art. Collegati a memorie integrate simulanti sinapsi i neuroni digitali apprendono dall'esperienza. Emulano a specchio le capacità umane gli elaboratori cognitivi. Tra gli scenari possibili insiti in rivoluzione epocali l'appello è alle migliori intenzioni. Saremo d'androide stirpe? Rimarranno la percezione? L'aura che prelude alla creazione tracce di segni distintivi? Intanto tra punti di interrogazione i chip tatuati in lembi similpelle restituiscono tattilità di sensazioni. In micro aree cerebrali possibilità di rimuovere gli eventi traumatici si individuano. La ricognizione futuribile è adimensionale. Il risultato del calcolo è immediato. Il photo finish scatta all'attimo fuggente. L'identità soggetto è un fotogramma istante in un avulso ralenti. I phone you tube.it Grazie Vincenzo. Grazie Vincenzo e direi che anche nella parte conclusiva che chiaramente chi potrà avere il libro tra le mani potrà vedere che ha un aspetto, un carattere diverso dal resto della poesia e tu magistralmente lo hai offerto con un soffio e con una partitura di voce differente e anche qui io penso che sia la multimedialità, cioè utilizzare diversi strumenti che abbiamo anche a disposizione, in questo caso la voce, per raccontare meglio l'intenzione. Dicevo che ci dava l'opportunità di inserirci sul discorso soggetto oggetto. Allora noi viviamo oggi sicuramente un soverchiamento di quelli che erano i valori appunto con una importanza principale nei confronti del soggetto oggi è l'oggetto e ci può portare ad avvicinarci al realismo terminale, quel movimento riconosciuto, scoperto da Guido Oldani che ormai ha la sua storia in quanto anni, credo che ormai siamo già sui dieci sì è del duemiladieci. Ecco undici anni, undici anni che sicuramente affronta una modifica del linguaggio poetico più afferente a quella che è la nostra situazione sociale, al di là dell'accatastamento dei popoli, al di là di quello che può essere stato lo spostamento dalla campagna alle città, l'accatastamento che ha prolificato anche una mistura di lingue, di idiomi, di linguaggi, quindi creando per certi versi anche una sorta di confusione. Bene, ma poi arriva l'oggetto addirittura diventando esso oggetto come termine termine di riferimento anche per le famose, non mi viene adesso, il termine, aiutami, è uno delle caratteristiche del realismo terminale, la similitudine rovesciata, esatto, per la similitudine rovesciata. Nel caso appunto del testo appena letto, cioè gli oggetti che cosa fanno in realtà? Che prendono il posto di qualcuno, di qualcosa? Sì, praticamente il pronome, il soggetto viene declinato in funzione dell'oggetto I, io, phone, quindi l'iPhone, YouTube, punto it, cioè è un tentativo, un'esaltazione anche un po' forzata per rendere chiaro questo concetto che gli oggetti finiscono alla fine, possono rischiare, si può rischiare che gli oggetti finiscono per possederci, quindi l'oggetto diventi soggetto e questo è uno dei temi importanti del realismo terminale. Infatti leggendo parte del manifesto breve di Oldani, e lo stesso manifesto dice gli oggetti occupano tutto lo spazio abitabile, ci avvolgono come una camicia di forza, ci sono diventati indispensabili, senza di loro ci sentiremmo persi, non sapremmo più compiere il minimo atto e questo è una consonanza con questa parte finale del mio testo che afferma proprio questo concetto, attenzione, gli oggetti rischiano di possedere, possederci. Certo. Ed è stato... Prego. Prego, prego, prego. No, dicevo, e anche per quanto riguarda appunto il discorso della similitudine, se prima era la natura a essere utilizzata come termine di riferimento, ecco, adesso sono gli oggetti che diventano il punto di confronto per fare appunto o una similitudine o comunque per essere eletti a principali protagonisti ancora della nostra vita. Mi viene in mente una similitudine che mi è rimasta impressa, che probabilmente non è ancora scritta perché è stata detta durante un convegno che aveva fatto una lezione in una scuola quando diceva mi hai lasciata sola come un ombrello al bar. Ecco, allora, una volta forse mi hai lasciato sola, non so, come un petalo di rosa piuttosto che una stella cadente eccetera, ma come un ombrello al bar la dice lunga su quello che è appunto il termine di confronto di una emozione umana, ancora un oggetto. Sì, e io vorrei andare avanti, visto che mi hai dato un'opportunità, io ne sono grato, nella lettura sempre da questa sezione e su questo argomento ancora di un testo di Liliana, acqua con penetro. La componente astratta della roccia che sale nel diluvio delle nebbie alleggerisce il ghiaccio galleggiante e precipitazioni combinano le chimiche, durezza levigata ai passaggi, s'aggrappa di due vite infinitesime gocce pensanti altro da me con penetro terraqueo. Acqua alta, acqua di giacimento, acqua morta, acqua di cava, diffusione e selvaggia, fossile, giovanile, incanalata, ipogeica, litosferica, acqua, lavadosa marina, meteorica, l'acqua minerale, la termale, gocce, cellule, concatenazioni, s'esalta e salta cavalloni di infranto geo. Caso? Perché? E questa è la nostra Liliana che non si è smarrita intorno a questo universo acquatico, chiamiamolo così. E che ci propone un altro dei temi del realismo terminale che è quello della natura che è stata messa ai margini, dice Guidoldani. Qui ci differenziamo rispetto al realismo terminale perché sia soprattutto nei test di Liliana, penso infatti acqua con penetro che appena letto è a terra terra, la natura viene vista come non sminuita nel suo ruolo a differenza del realismo terminale perché rimane sempre un riferimento rispetto al quale l'essere umano rimane comunque infinitesimo, destinato a sottostare alle forze della natura comunque. E la natura rappresenta comunque anche una colonna portante per non smarrirsi in questa progressiva virtualizzazione. La natura e l'arte rappresentano delle colonne portanti in questo senso. Alle quali, alle quali, colonne d'Ercole, alle quali possiamo aggrapparci per tenere ben salda anche la nostra natura umana. Perché l'intelligenza non soggiaccia all'artificiale intelligenza. Certo. Vedo tra i nostri partecipanti Fabrizio Bregoli che con la scienza, la tecnologia, la matematica ha un rapporto particolare viscerale che sta raccontando, sta dicendo cose, poi andremo a leggerlo meglio al di là di salutarlo personalmente. Ciao Fabrizio e ciao ancora a tutti gli altri nostri eh ospiti partecipanti. E allora eh ancora una poesia di eh Liliana per quanto riguarda il linguaggio perché ovviamente il contenuto ha bisogno anche di un supporto idoneo e adatto che può essere variato in base a quello che si vuole dire. Quindi ecco per noi linguaggio. E siamo sempre nella sezione di oltre infinito 2.0. Velazione di suoni, vocalità, emozione che non muta al mutismo, lingua di mano, altra comunicanza, a oltranza, si batte dove duole e linguaggio, miriade che per quote tam tam soffia di tromba, corda di violino e si rimuove nell'onda che richiama dialettiche e allusioni, alluvioni, di doppi, la verità del perdersi. Scusate ma c'è un telefono che suona. Io ho un immediato bisogno di staccarmi perché altrimenti va avanti troppo. Mi chiedo scusa. Vincenzo vai avanti tu a raccontare il linguaggio. Prego. Eh in questo testo Liliana ribadisce l'essenzialità della parola, del linguaggio, della vocalità, della parola suono che si fa come dice lei stessa nel testo, miriade e che ci permette di comunicare e ci mette in contatto come esseri umani e sottolinea quindi la necessità di confronto e di rimanere all'interno della nostra umanità. Ecco. ora eh Diana ci ha abbandonato per un attimo ma eccola subito che arriva. Gli imprevisti del mestiere. Prego. Grazie grazie scusatemi. Bene. Hai fatto da ospite di casa, padrone di casa. Ho cercato ma sei insostituibile. Ti ringrazio ti ringrazio. Eri arrivato in un metà discorso che vuoi terminare? Non ancora. Ok. Ok. Poi ehm proseguiamo sul nostro volume sull'ultima sezione che è OL3 carinissimo, oltre infinito e anche qui partiamo da che periodo Vincenzo? Qui siamo già al 2014. Siamo sempre più vicini all'oggi se vogliamo anche se ormai il tempo si sta dilatando a nostro rispetto. E su questa sezione, proprio per riuscire a capire meglio come non correre il rischio di farci forse robotizzare a questo punto, o rendere meno umani da questi strumenti che stiamo usando. Eh mi suggerivi un articolo abbastanza recente che parla di carezze ricevute dai robot. Vero Vincenzo? Sì, se volete vi leggo solo tre righe di questo articolo. Sì, volentieri, grazie. Allora, è un'ansa del 6 maggio. Dice le carezze ricevute dai robot emozionano gli esseri umani e li rendono più empatici con le macchine. A indicarlo sono i test su un gruppo di studenti impegnati a interagire con i robot umanoidi condotti in Germania e poi pubblicati su una rivista tedesca. In risposta al tocco del robot, la maggior parte degli studenti ha sorriso e nessuno si è tirato indietro. I risultati suggeriscono che le carezze e in generale le interazioni fisiche affettive da parte dei robot siano in grado di modificare la nostra percezione. Un elemento utile non solo per migliorare le interazioni uomo-macchina, ma in futuro per utilizzare i robot per fini motivazionali. Attenzione, io direi che qui mettiamo un cartello di quelli triangolari col giallo, ecco, pericolo, pericolo, come si suol dire. E allora andiamo avanti e ti chiedo di leggere proprio su questo pericolo a usili d'arti. Saluti sminuiti da distanze in anni luce, ondeggiar di mani in chissà di percezioni altre. Nell'intaglio che disegna il movimento si destina l'energia del quanto comunicativo, al forse, alla probabilità, non così remota, di un sé alieno. Il dito tasto compone sequenze e codice, in un rimanere sospeso che precede un finale invio. In assenza d'impronta, tra maglie d'identità, un furto si consuma e mi sono altro per un vettuale senso e sesso, simulazione d'immaginario, irretito in schede e schemi. La carezza, digitalmente composta, non attraversa e il bucar lo schermo appartiene all'illusione, alla realtà del non avvenuto. Così, ceduto l'arto per un ausilio altro, persistere nel non cedere l'intelligenza all'artificiale intelligenza e salvifico in un condursi per gradi d'oltre. Grazie Vincenzo e direi che è un suggerimento, se non addirittura istruzioni per l'uso, che andrebbe seguito con molta attenzione. In questa sezione ci sono diversi autoritratti, autoritratti, che ha scritto, che ha composto Liliano Volini e chiaramente sono autoritratti di realtà differenti fra di loro. Io vorrei leggere ai nostri partecipanti la poesia di pagina, l'autoritratto di pagina cinquantacinque, visto che stiamo parlando di robot. Sono anche un cyborg senza fili. Mi formo sopra il tempo che mi lavora in nero. Ho facoltà di incidere, capito il meccanismo informazione, sino a divenire, non per volontà. L'accidente vita è insospettabile, al cenno d'eternità e lo spazio s'accorcia a un tratto e il filo appare. Ecco Vincenzo, questo filo è il filo. È un tema carissimo a Liliana. Eccoci, eccoci, questo filo. È il filo della marionetta sulla quale Liliana ha tanto scritto. Citerò solamente marionette miti, delle marionette, dei burattini, del burattinaio e la marionetta vivente. Sono alcune delle opere che Liliana ha dedicato a questo tema. Vi leggerò una citazione che Liliana ha utilizzato all'interno della marionetta vivente e che è di Guido Ceronetti. Siamo marionette, ma dobbiamo disperatamente fingere di non crederlo o come uomini siamo perduti. Inoltre, essendo occulto il filo, si può sempre scommettere che non ci sia e fondare su questo dubbio la libertà individuale. Nostra grazia è dei inni. E la stessa Liliana ci fa ancora riflettere su questo tema con l'incipit al libro. Non potremo certo dire all'uomo che in cielo e terra non ha proporzioni e non potremo dirgli che nonostante lui lo creda non c'è da credere se non nel sogno che lo tiene in vita e neppure sogno lo compete ma possibilità di sogno. Anche la volontà che nasce fuori e dentro le sue cellule non potremo dire all'uomo che non viene da lui e che la fede è percezione solo un canale del sogno e che non somiglia a nessuno ma di animali, alberi e pietre e specchio è loro espressione. Non potremmo dirgli la sua piccolezza e il suo, la sua fine per una trasformazione d'un sogno non suo. Direi che questo sera un'apertura ci dà sicuramente un'indicazione in più in quale eh situazione sospesa ci stiamo avventurando. Ecco qui c'è un sogno che appartiene all'umano in realtà più che alla realtà eh all'intelligenza artificiale perché non penso che riescano a a sognare no? Però però è un sogno che mette una dimensione sospesa in realtà quella che potremmo vivere proprio nella relazione con eh questi nuovi strumenti. Eh Vincenzo io a chiusura di questo nostro incontro ti chiederei a differenza di quello che avevamo stabilito di leggere il manifesto. Sì volentieri. Perché ci dà un compendio allora di tutto quello che abbiamo trattato c'è proprio la poesia inizia anzi il manifesto di oltre infinito che è sul retro di in quarta di copertina ma che ci dà quello che vogliono dirci i nostri autori. Prego Vincenzo. Oltre infinito il progetto nasce da riconoscersi in una prospettiva alta rispetto alla poesia intimistica. La coscienza comune del proprio differente e personale percorso nel procedere poetico e dell'esistente si manifesta sin dal confronto degli scritti scelti come struttura di una performance dal titolo omonimo. L'obiettivo dell'osservazione ruota dall'individuo a tutto quanto lo circonda. La poesia si sincronizza con il mondo esterno diventando oggetto soggetto in espansione costante. La materia poetica è scientifica e tecnologica. Oltre infinito dunque è manifesto. Il viaggio è già in corso. La destinazione e l'espansione del circostante in un perenne non arrivo a un non dove finito. Grazie Vincenzo. Direi che ringraziamo i nostri ospiti. Avrai di che divertirti stasera nell'andare a vedere quanto è stato è stato scritto. Ancora una volta rinnova il nostro abbraccio caloroso per Liliana. Grazie a te per essere stato veramente un co conduttore più che valido e e a te anche un complimento. La tua riservatezza e la tua gentilezza ecco sono virtù chiamiamole così che non sempre si incontrano per cui anche di questo io ti sono grata. Grazie Diana. Sei stata accogliente e empatica. Abbiamo superato tutti quanti i momenti di difficoltà anche quelli più tecnici che appunto ci sanno dire che tutto sommato l'umano riesce a gestire anche le questioni tecniche con diciamo capacità inventiva e disinvoltura. Grazie ancora per tutto grazie ai nostri ospiti. Io vi do appuntamento per un prossimo velocissimo credo ma non mi ricordo più il giorno un'altra diretta online ancora con la poesia ma se ci seguirete se mi seguirete sulla sulla pagina entro brevissimo avremo la nuova locandina per cui ancora la poesia ci accompagnerà in un pomeriggio in una tarda serata una specie di aperitivo poetico chiamiamolo così. Grazie ancora e buona serata a tutti. Arrivederci.